benvenuti e salve a tutti eccoci qui in questo spazio che in qualche modo vuole essere non dico confortante troppo no perché in questo periodo essere confortati beh significa ben altro probabilmente però siamo in una emergenza quella del coronavirus detto anche covid 19 ed è chiaro che forse la miglior cosa che si può fare a beneficio dei cittadini almeno quelli limitrofi a noi che siamo in questo studio parlo di noi in quanto io e dal sindaco franco ancora di martina franca è proprio quello di parlare più del nostro di una situazione non facile di una situazione che ci è caduta addosso all'improvviso e che probabilmente nessuno avrebbe potuto immaginare quando ancora celebravamo la nascita del felice gesù bambino in quel di natale nell'arco di pochissimi giorni questo 2020 ci siamo trovati in questa situazione sicuramente che non è all'ordine del giorno col sindaco ancora qui cercheremo in qualche modo di rendere un attimino più serena questa circostanza che si vive questa quarantena prolungata soprattutto fino ad aprile in cui un po tutti siamo bloccati in cui il quotidiano di ognuno di noi in qualche modo è stato stravolto e confuso per molti versi perché chiaramente è una nuova situazione la situazione mai vissuta che ci fa comprendere allo stesso tempo tante cose prima di cominciare chiaro che ci poniamo un obiettivo che tutta questa situazione indipendentemente da come ognuno di noi possa immaginarla o pensarla ha sempre un suo bicchiere mezzo pieno benvenuto innanzitutto al sindaco franco ben trovato grazie grazie una modalità che spera di essere questa un attimino più più chiara per alcuni versi ma anche più come dicevano un termine aggettivo serena finché i cittadini vivono più o più tranquillamente e con con il senno dell'ora perché è una questione che viviamo in questo presente per garantirci magari un futuro più più tranquillo il coronavirus è arrivato un po dappertutto nel mondo partiamo da questo martina per cui questi non è ancora arrivato non c'è un caso quindi trattiamo subito martina franca partiamo da questo non ci sono ancora oggi ad oggi non non ci sono casi a martina per fortuna voglio dire ma anche penso anche per il comportamento virtuoso di tanti cittadini che insomma le disposizioni poi le hanno osservato tu hai parlato di serenità la serenità può essere come dire lo stato di una famiglia che si riunisce che coglie questa situazione per stare un poco più insieme è un poco più difficile per le attività economiche perché sono state colpite fortemente no ieri abbiamo potuto vedere girando per le strade che i nostri negozi la ristorazione i bar avevano osservato fortunatamente le disposizioni però è una città irreale una città che sicuramente fa soffrire un pezzo importante della nostra economia se non l'intera economia tenendo presente per esempio che anche il nostro manufatturiero si basa fortemente sui mercati nazionali del nord e sui mercati internazionali l'abbigliamento in particolare uno dei settori colpiti insieme a quello dell'accoglienza del turismo insomma in generale però diciamo che questa cura così drastica dovrebbe servire se tutti facciamo la nostra parte a superare questo momento e a ripartire in aprile io lo spero molto lo spero tanto e per questo dobbiamo avere dei comportamenti virtuosi e osservare le disposizioni per prima di passare a quelli che sono i comportamenti virtuosi ecco restiamo nella sfera di un sindaco un sindaco che sicuramente essendo il primo cittadino e non il responsabile chiaramente di un coronavirus però è logico che soffre in una certa maniera quelli che possono essere stati passi in avanti compiuti nel corso di una di una gestione amministrativa e che poi all'improvviso perché è all'improvviso il tutto sembra non diciamo crollare ma in qualche modo fermarsi e interrompere un percorso virtuoso dobbiamo dirlo lasciamo perdere la singola amministrazione ancora però un percorso virtuoso che portato anche la puglia in generale la valle di itria in primo ordine a rappresentare un punto di riferimento per il turismo ma anche per tanti altri aspetti e quindi questo è un momento particolare per un primo cittadino abbiamo visto anche de caro che ha fatto proprio nelle ultime ore no l'ho visto anch'io la constatazione su cui anche de caro si è emozionato di vedere la città che era stata portata a bari avanti sul piano turistico negli ultimi tempi con efficacia mi ha fatto appunto richiamare riportare immediatamente nel nostro territorio i nostri numeri sono stati importantissimi la crescita del nostro sistema di accoglienza turistica è stata molto importante negli ultimi anni questa è un colpo molto serio vedremo con quale misura magari il governo sosterà la ripresa ma la ripresa è garantita soltanto quando il mondo percepirà che l'italia è uscita da questo pandemonio piuttosto che dall'infezione voglio dire quando l'italia nelle croniche internazionali sarà il paese sicuro perché ha affrontato magari prima nella diciamo nella parte occidentale del mondo questo problema e l'ha risolto allora io sono sicuro che con i nostri territori torneranno ad essere frequentati però per fare questo dobbiamo fermare il contagio e fermare il contagio è quello su cui ci dobbiamo concentrare in questi giorni fermare il contagio significa in qualche modo prevenirlo utilizzato un termine no pandemonio che fa rima stretta con pandemia una pandemia che non c'è partiamo da ciò che non c'è perché forse si è fatto troppa leva su ciò che c'è e questo ha fatto sì che la comunicazione è anche un po sfasata un po esagerata un po esageratamente continua ho sottovalutata ho sottovalutata tante volte sottovalutata però anche spalmata dappertutto nei mezzi di comunicazione ha creato quella suscettibilità che oggi è divenuta per alcuni versi anche un po trovistica quasi dove tanti cittadini hanno dato un peso però anche oltre l'esagerato quindi da questo punto di vista è giusto mettere un attimino più che i puntini sulla i i giusti paletti e capire che non siamo in pandemia siamo in una scelta dello stato dell'evitare che sostanzialmente i centri in osocomi gli ospedali si ingolfino e possano non rispondere sì questo sicuramente l'iniziativa di utilizzare lo stesso di assoggettare alle stesse norme l'intero territorio nazionale di estendere all'italia meridionale le norme che valevano per le zone del nord più interessato dal virus ci fa capire la dimensione del problema che è un problema nazionale allora l'opportunità che abbiamo noi qui è che abbiamo potuto vedere che cosa succede lì se non si fanno determinate azioni noi qui ancora possiamo farcela perché è vero che ci sono focolai sparsi in tutta la puglia o focolai o casi più che focolai però se se noi riusciamo a fermare il contagio perché per 15 giorni sostanzialmente fino al 4 aprile fermiamo tutte quelle attività che non sono necessarie e riusciamo a sconvigere il virus a sconvigere la diffusione del virus noi avremo contribuito a far risalire immediatamente l'italia perché di questo si tratta non si tratta solo di evitare che i casi siano tali e tanti da come dire mettere in crisi un sistema sanitario che non riesce più a rispondere come sta capitando in alcune zone del nord non si tratta di questo si tratta proprio di evitare che si arrivi a questo utilizzando questi accorgimenti che sono stati posti in essere che ripeto per alcuni settori economici sono molto drastici per tanti di noi si tratta semplicemente di cambiare le abitudini per esempio le persone anziane dovrebbero rimanere a casa devono essere convinte dai figli dai nipoti a rimanere a casa e devono a loro volta dire ai figli e ai nipoti che devono rimanere insieme questo è possibile per alcune categorie perché le attività didattiche sono sospese gli studenti non stanno andando a scuola è possibile se noi invece ci reincontriamo e noi siamo abituati a incontrarci in piazza incontrarci al bar e stare magari a chiacchierare l'uno vicino all'altro allora noi non stiamo facendo quello che si deve fare arriviamo a quello che si deve fare un qualcosa che chiaramente scombustola un po tutti la quotidianità anche se partiamo da quello che effettivamente il primo giorno già se parliamo in quanto oggi che stiamo registrando però visto in replica dal primo giorno in cui c'è stata la restrizione come zona rossa però si è visto già un netto cambiamento degli usi quotidiani le strade erano e sono ancora lo saranno sempre di più abbastanza spopolate i locali chiusi chiaramente favoriscono questa perché forse due volte su tre si esce per usufruire di quelli che sono i beni primo consumo eccetera quindi da questo punto di vista però è chiaro che ci sono delle restrizioni adesso cerchiamo un attimino proprio per chiarire ancora meglio rendere quanto più specifica la buona informazione quella che serve ai singoli cittadini parliamo dei nostri martinesi in questo caso ci sono delle misure che però non sono state restrittive al 100% facciamo l'esempio dei mezzi di trasporto i mezzi di trasporto per esempio si possono regolarmente prendere quindi mezzi di trasporto questi si possono continuare a prendere questo è importante lo ricordo direttamente io l'importante mantenere sempre le distanze ma lì saranno gli stessi autisti responsabili datori di lavoro del mezzo a ricordare che bisogna mantenere le necessarie distanze da questo punto di vista si può uscire dalla macchina però per quali motivi ecco da questo punto di vista anche uscire dalla propria dal proprio paese si può fare però ci sono ricordiamolo alcuni aspetti che permettono di oltrepassare la linea di confine del proprio paese per andare in un altro paese no si può uscire per i motivi che sono consentiti ovviamente il lavoro è garantito nel senso che chi si deve ricare in un'altra città o sul proprio posto di lavoro deve poter uscire di casa e raggiungere liberamente l'altra città e il posto di lavoro è ovvio che si può essere intercettati ma si può essere intercettati non in quanto si sta andando a lavorare in quanto può essere uno spostamento inappropriato cioè di una persona che non sta andando a lavorare non sta andando in circolazione per risolvere un problema di salute proprio o di un proprio parente quindi non c'è motivo perché esca l'altro motivo ovviamente è andare a rifornirsi di beni di prima necessità perché a differenza degli altri servizi pubblici che sono soggetti a delle restrizioni i supermercati alimentari e i negozi alimentari o macellerie o quant'altro questi resteranno sempre comunque aperti quindi per esempio non dobbiamo ripetere assolutamente e questo è senz'altro un messaggio da diffondere attraverso diciamo il mezzo di comunicazione che stiamo utilizzando oggi non bisogna assolutamente ripetere la vicenda di andare al supermercato in una maniera affollata cioè senza rispettare lì anche le distanze perché non ce n'è bisogno cioè le aziende magari magari ci fosse necessità le aziende agricole le aziende produttrici del nostro agroalimentare sono tutte per fortuna quelle attive no perché mentre per alcuni beni si può o rimandare no o non si può utilizzare come per esempio una vacanza in questo momento non è possibile no perché per i generi alimentari non c'è nessuna restrizione quindi gli scaffali saranno sempre alimentati perché le aziende agricole le aziende che producono i nostri beni di consumo sono attive sono attive per fortuna almeno quelle sono attive quindi non c'è nessuna necessità di affollarsi i locali in genere di ristorazione quindi parliamo di bar pizzerie ristoranti tutti quei locali che danno da bere o da mangiare le persone ecco nella sostanza devono chiudere i battenti fino al 4 aprile almeno fin quando però parliamo signor sindaco di una dell'autocertificazione ecco questa cosetta nuova che ha un po' allarmato alcuni se non i più perché suona un po' come 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 preoccupante in quanto per è ovvio che per scoraggiare gli spostamenti impropri che non obbediscono all'ordinanza di rimanere a casa perché questa è il titolo dell'ordinanza no è possibile che gli organi di polizia tutti gli organi dalla polizia locale creminieri alla polizia di stato la guardia di finanza e così via intercettino le persone per sapere perché si sono spostate in quel caso possono richiedere senz'altro lo richiederanno un'autodichiarazione che attesti che lo spostamento è uno per uno dei motivi consentiti cioè il lavoro come abbiamo detto salute rifornirsi di bene di prima necessità assistere un parente andare a trovare il figlio affidato alla mamma risolvere un problema di fragilità propria di quella famiglia no che può riguardare un minore può riguardare un adulto può riguardare persone diversamente abili comunque si tratta sempre di andare ad assistere una persona che ha bisogno strettamente di noi no del parente e questo è importante che resti in questo circuito no in modo che i contatti restino sempre limitati alle famiglie però è bene specificare che ci sono per esempio delle consuetudini quotidiane come coloro che hanno il cane ricordiamo il cane si può continuare tranquillamente a far uscire per i soliti giretti opportuni igienici ricordiamo va raccolto comunque il tutto è questo per metterci comunque un obbligo che già obbligo ancora prima del coronavirus come anche ricordiamo le attività motorie sono concesse quindi si può andare nel parco tranquillamente anche a giocare bisogna dirlo questo cioè bisogna per estremi a priori si può l'importante che non ci siano appunto assemblamenti non che non ci siano troppe persone ma se uno vuole andare a correre lo può fare se uno vuole andare nel parco per stare un po con i bambini per farli prendere anche aria in questi giorni di prima primavera per quanto si è arrivata prima si può fare ma oltretutto c'è ricordiamolo che tutti ci siamo resi conto che già c'è una certa presa di posizione di tutti i cittadini ma anche dei gli addetti ai lavori come quando vediamo adesso alle farmacie gente che già comincia a fare la coda all'esterno ma anche un po in tutti gli esercizi commerciali ecco questo più o noi abbiamo istituito il centro di coordinamento di queste delle attività il coc subito anzi abbiamo guadagnato un giorno con le nostre disposizioni e sulla base anche della della ordinanza firmata dal presidente emiliano che sottopone a quarantena tutte le persone che vengono dalle aree del nord che in precedenza erano zone rosse o gialla sotto particolari osservazioni cioè che avevano le norme che avevamo che oggi abbiamo noi prima di noi però che sono risultate zone diciamo di focolaio vero e proprio allora l'ordinanza del presidente emiliano ha detto che le persone che vengono da quelle aree devono sottoporsi a quarantena quarantena significa che devono rimanere 14 giorni in un posto che può essere il proprio domicilio o altro noi istituendo il coc abbiamo chiesto ai nostri volontari che hanno aderito proprio perché sono presenti nel nel centro operativo di poter portare bene di prima necessità e il nostro lavoro che hanno chiesto ai nostri farmaci a persone sole a casa che ora a cui si dice ora di non poter uscire si può chiamare i numeri si possono sotto i numeri lo vediamo e quindi si può chiamare a questo numero ma devono chiamare soltanto le persone che hanno necessità e non possono muoversi da sole o non hanno la rete familiare stretta che li aiuta no altrimenti ingolfiamo anche questo tipo di servizio come lo possono chiamare le persone che sono giunte sul territorio e non possono uscire perché sono in quarantena ecco questo noi l'abbiamo fatto immediatamente ed è operativo questo servizio naturalmente siamo riscontrato che la maggior richiesta è quella per l'approvvigionamento di farmaci però ripeto deve essere fatto anche questo deve essere fatto non per saltare la fila alla farmacia ma perché c'è un effettivo bisogno dimostrabile anche da chi chiama che non può provvedere diversamente sia ai beni di prima necessità sia ai farmaci e di fronte a tutto ciò comunque il comune ha anche preso delle cautele no delle un attimino cercato di mettere le mani avanti riguardo a quello che può essere eventuale assemblamenti all'interno degli uffici comunali quindi richiedendo a tutte le persone di rivolgersi presso gli uffici comunali solo per estreme esigenze no per certificati davvero dei quali non si può fare a meno e lo ha fatto anche in un periodo in cui proprio in questi giorni si è lanciato questo nuovo modo abbastanza utile sicuramente anche avanzato rispetto a tanti altri comuni in italia dei certificati online la possibilità di fare i propri certificati anagrafici su online ecco questo amplifichiamolo un attimino anche parliamo meglio di questo aspetto che torna utilissimo in questo momento di emergenza beh in questi in questi giorni che si ci separano dal 4 aprile dobbiamo evitare di raggiungere gli uffici in genere e anche quelli comunali se non per pratiche urgenti di cui si ha estreme necessità indifferibili perché anche diciamo l'affollamento delle delle salette di attese che per il comune sono ormai quasi tutte dotate di contapersona cioè c'è la possibilità di prenotarsi anche il rischio di affollare quelle salette di attese è un rischio che non dobbiamo correre quindi in comune si va solo per le urgenze ci sono state disposizioni anche negli altri comuni in cui addirittura per essere ricevuti bisogna prenotarsi anche da noi è così i vari le varie direzioni stanno dicendo il modo di più opportuno per essere contattati in questo periodo di estrema emergenza il modo più opportuno di essere contattati e quindi di essere ricevuti quindi valutando anche la stessa necessità del di soddisfare di offrire quel servizio servizio che noi comunque dobbiamo garantire a fianco a questo come tu dicevi poco fa insomma il nostro programma di rendere i servizi comunali online attraverso le diciamo gli strumenti oggi di comunicazione telematica ci consente oggi di dire che se si hanno bisogno si ha bisogno di alcune di alcune cose come un certificato di residenza perché è urgente concludere una procedura una pratica che si sta facendo per ottenere magari degli altri servizi o rispettare delle scadenze allora è anche possibile oggi condattare il comune avere una password una login e con quelli accedere ai nostri servizi che vengono poi monitorati affinché questi servizi siano resi attraverso l'impresa in un giorno i tecnici sanno che possono colloquiare con chi con il responsabile del procedimento di una pratica che hanno introdotto per sapere lo stato del procedimento quindi evita è possibile avere molti servizi non recandosi al comune perché insomma il comune anche uno stato di avanzata di diciamo installazione di procedura prevista dal passaggio digitale dell'intera nazione noi siamo tra i comuni che stanno più avanti la cosa che dobbiamo capire che dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione sia per tutelare le nostre persone più anziane che sono colpite da questo virus in una maniera a spesse volte fatale no ma soprattutto per restringere il periodo a comprimere questo periodo e raggiungere i risultati il più presto possibile per far ripartire l'economia perché gli effetti devastanti del virus non sono solo sulla salute delle persone ma sono quelle che si preannunciano sull'economia a me piace fare rivolgermi principalmente agli anziani che sono quelli il target no gli anziani hanno conosciuto nel 56 la neve la nevicata che durò più di 20 giorni quando ci fu quel fenomeno le persone non potevano uscire di casa ma letteralmente non potevano uscire di casa io ero piccolino avevo sei anni però ho ancora proprio evidente questo questa mia famiglia che era già numerosa eravamo già 6 7 8 insomma no in casa che non ci si poteva muovere allora la neve che pure scendeva silenziosa la notte ci impediva di uscire perché noi vedevamo qual era l'ostacolo era la neve il ghiaccio no questa volta l'ostacolo non lo vediamo ma noi ci dovremmo comportare come se fossimo stati colpiti come nel 56 di una grande nevicata e quindi non dobbiamo uscire di casa ringraziamo il sindaco Ancona per essere stato qui con noi il discorso virus corona sicuramente molto più ampio speriamo che da questo micchiere mezzo pieno a cui porta qualsiasi crisi a cui sta portando anche il coronavirus covid 19 e possiamo prenderne atto di tante cose che vanno fatte meglio al di là dell'emergenza in sé ma sicuramente di come bisogna comportarsi con questo pianeta che sta lanciando dei segnali probabilmente anche attraverso questo virus di come il mondo in sé l'essere umano si sta comportando sicuramente non bene perché al di là di tutto ciò quando ci rialziamo o quando ci riprendiamo da questa fase beh bisogna un attimino guardarsi più negli occhi e più che mettere la mascherina bisognerà mettersi sul serio a ragionare bene e ognuno con l'impegno dovuto per migliorare e salvaguardare meglio tutto il nostro sistema a voi grazie per averci seguito grazie nuovamente al primo cittadino di martirafranca franco ancora e buona continuazione di quarantena a tutti